Sì Davide, ciao! Ogni giorno durante le nostre rubriche impariamo e scopriamo qualcosa in più. Avete capito dove sono? Avete capito con chi sono, con Stefano, il nostro amico dal Pollice Verde, che oggi ci parlerà di olivi bonsai. Ciao Anna Bruna, oggi parliamo di olivi bonsai e di fichi d'India. Sono delle piante che hanno una bassa manutenzione e come vedi sono coltivate nei vasi senza alcun problema. Quindi sono facili da coltivare? Grazie a tutti.